E parlando di donne, veniamo a Siderno, sì, Siderno, perché è tutto pronto per la grande serata della festa della donna. L'8 marzo al ristorante La Mimosa, in via Mediterraneo, proprio a Siderno, con due menu a scelta o pizza o ristorante. Un bellissimo regalo offerto per l'ospite più fortunata e addirittura due sale separate, una per sole donne e l'altra anche per le coppie. E mi sembra giusto discriminare le coppie in una serata del genere, quindi anche per le coppie c'è posto l'animazione, la musica, il karaoke, gli sketch, i giochini e le foto, tutte a cura del Carletto Show. Info e prenotazioni allo 0964 34 2303, festa della donna alla Mimosa di Siderno.